Buongiorno e ben ritrovati di nuovo insieme con la rubrica dei due minuti di Vangelo. Oggi affrontiamo la lettura dei versetti 21-43 del capitolo quinto di San Marco. Il brano di oggi è veramente bello perché riguarda una questione molto importante della nostra fede, e cioè il desiderio umano di poter vedere e toccare Gesù. La prima volta che ascoltai questo testo mi folgorò il fatto che la donna malata da dodici anni, toccando il mantello di Gesù, ne fu subito risanata. Lei, che è immagine di tutti noi, le aveva tentate tutte, e Gesù rimaneva forse la sua ultima spiaggia. Dodici anni è segno della pienezza, cioè della misura colma, del non ne posso più. La donna non aveva nulla da difendere, neppure la propria dignità, ma allo stesso tempo non aveva neppure troppe pretese. E sarebbe bastato toccare il mantello indossato dal Signore, neppure la sua carne, neppure stringere la sua mano. E attraverso quel mantello la donna fu guarita. Oggi, dopo duemila anni, anche noi possiamo toccare quel mantello e la sua chiesa. Ci crediamo che la chiesa può davvero risanarci? Ci crediamo che attraverso la chiesa può fluire la sua grazia in noi? Abbiamo a volte delle pretese nei confronti di Gesù, e questo non ci fa considerare che noi abbiamo la possibilità di avvicinarci a lui attraverso la chiesa che lui stesso ha stabilito e costituito. Ma il brano di oggi è molto più complesso. Infatti, il miracolo di questa donna risanata da una malattia durante 12 anni si inserisce in un altro brano, e cioè quello di una bambina di 12 anni, anche lei, gravemente malata e in fin di vita. Anzi, una ragazzina che muore mentre Gesù si attarda a parlare con la prima donna. Il padre della bambina, una persona molto importante della sinagoga, aveva chiesto l'intervento del Signore. Ma proprio mentre si stava incamminando verso la fanciulla, arrivò la notizia della sua morte. Il brano è famoso anche perché i servi di Gairo, questo il nome del padre, derisero Gesù quando disse che la bambina si sarebbe risvegliata. Sta di fatto che prendendo con sé solo i tre discepoli prediletti, Gesù entra nella stanza della morta e la risveglia. C'è da notare che non solo il numero 12, segno della pienezza, come dicevamo, ma anche l'impurità accomuna le due donne. Gesù non avrebbe potuto toccare né l'una né l'altra. La prima per le perdite di sangue che, per la religione ebraica, rendevano impura una persona, e l'altra defunta. Rendeva impuri il toccare un cadavere. Gesù, in poche parole, si contamina nell'atto di fare il bene. Non nel senso che il fine giustifichi i mezzi, bensì per farci comprendere che non importa se ci si sporca le mani o l'abito. L'importante è avere il cuore puro. E per te che cosa è importante? Sei disposto a sporcarti le mani per fare il bene? Scrivimi il tuo pensiero e lascia un like a questo video. Se ancora non l'hai fatto, ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube. E mentre ti saluto, ti do appuntamento alla prossima volta. A presto!